Oggi siamo nel video porterò fortnite orientati voi me l'anno nello scorso video vi ho dato raggiungiamo 4 like li abbiamo raggiunti quindi raga questo video Allora porterò fortnite allora non durerà tantissimo questo video perché devo solo dirvi sì o no o qualche altro argomento Allora penso di sì comunque porterò fortnite non lo so penso di sì però raga non voglio iniziare altre serie per un po' di tempo perché Già sono incasinato con Rambo con FIFA sono incasinato e poi anche con Rocket League Perché raga c'è un problema della PS4 che non mi ricarica più i video adesso vorrei riprovare a caricarli perché non mi ricarica Non so che problemi ha a volte però non so proprio che problemi Comunque raga c'è una selezione dove c'è la telecamera che mi allunga la faccia cioè come vedete Vedete c'è lo zoom Quanto cazzo è zoom no... no raga chiediamo quindi raga mi fidate pazzesca Quindi ok volevo assaggiare questa coca cola qua senza la marca con il tappo rosso chissà come mai tipo vorrei assaggiare come è qua da due settimane una settimana cos'è stupendo? si bevano un insetto raga mi sa posizionato sull'insettamento aspetta l'ho tolto sa di che ce l'ho sciolto beh no no lasciamo perdere assaggiamo l'acqua che è qua da tre mesi no una settimana una settimana ha un sapore di merda madonna che schifo sono beh l'ho anche bevuta tazzo l'ho anche bevuta raga oh tappo vieni su dai raga porterò a fortnite porterò a fortnite penso proprio di sì ve l'ho già detto boh vabbè capos perfetta raga non so se lo porterò perchè raga come vi ha già detto non credo di portare non credo di portare altre serie ok devo chiedere sempre tutto no? cosa qua mi sta inquadrando pochissimo una fa anche se io vi do come fanno tanti di voi raga? fortnite mi hanno detto che ci sono anche panni moments best moments adesso best moments raga che vanno molto va molto di successo adesso questo gioco stanno usando tanta gente che sto usando come vedo io anche dei miei amici ci sto giocando parecchio raga devo dire la verità che sarebbe un bel contenuto da portare sul canale però raga come vi ha già detto voglio aspettare l'anno prossimo per portare altri contenuti e altri giochi a parte il gioco gran turismo che farò una valutazione raga vi metterò su instagram portare porterò gran turismo sì o no guardiamo chi vota tipo se votate in 100.000 sì scrivetemi che vi lascio qua scritto 3 minuti e 30 si non so dove riuscirà che dopo è samuradhu 3 minuti ragazzi vedemi così sarete sempre aggiornati comunque andiamo avanti ci mangiamo uno di queste caramelle vitamins che vorrei prenderne uno al giorno non so perchè però vabbò vabbò questa qua ok ok perfetto raga non mi sta inquadrando la faccia quindi porterò fortnite vi ho già risposto penso proprio di sì però devo aspettare un po' di tempo quindi non non aspettatelo perchè credo che a novembre non vi uscirà ancora forse forse gran turismo ma non credo proprio neanche quello raga dovrò fare una scelta fortnite o gran turismo ve lo metterò su instagram seguitemi sempre seguitemi sempre 3 minuti 35 4 minuti 45 poi raga non so che altro fare vi dire visto che siamo 7 minuti di registrazione ovvio che forse a voi non uscirà 7 minuti ma sì non so quanto taglierò però non credo che taglierò tanto però vabbè in teoria siamo 7 minuti e 17 18 secondi 20 quindi raga è un gioco comunque che stanno usando in molto poi comunque non lo so comunque raga volevo dirvi che è un gioco molto bello di guerra che raga devi resistere cioè devi stare devo arrivare prima possiamo dire poi poi tu devi prendere le arlo poi poi non ci capisco in caso ragazzi sono un po' stanca è pomeriggio stanno e se riesce a prendere il pomeriggio però sono due campane e appena sono anche le campane le campane credere sempre sono anche due video spero che anche questo video vi sia piaciuto? lasciate un bel vi piace iscrivetevi al canale se avete ancora fatto chi è nuovo non vi è andato a vedere chi è nuovo raga andate a vedere il trailer del canale che vi lascio in descrizione no vi lascio basta che andate su un page con la pagina originale quella sopra prima pagina guardate le arlo si vedrà un po' male perché ragazzi ho sbagliato nell'editing ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato mettere la graffita hello poi mmm lasciate se li ha per questo video e guarda siamo di vedere 04 è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ah sta ancora andando ciao ragazzi